bentornati sul mio canale come fischio sempre peggio qua ci fanno andare fuori di melone non si riesce neanche più a fischiare bentornati sul mio canale oggi volevo riesaminare dopo averci dormito sopra la prima fac delle nuove fac uscite ieri dall'agenzia delle entrate ieri ho fatto un video di prima lettura insieme a voi delle 5 fac ora vi chiedo scusa per il problema di audio di prima banalmente era poi il cavetto che si era scollegato stavo cercando nelle mille impostazioni invece era solo quello chiedo a qualcuno che si sta collegando se mi da ora si sente perfetto grazie e ho cercato nelle impostazioni poi era il cavetto staccato allora ho fatto l'articolo sul blog adesso lo vediamo la ce la rileggiamo lì e volevo appunto guardare solo la prima sulle altre fac ho iniziato a dire qualcosa ieri oltre quelle cinque fac credo siano fac vecchie anche perché ce n'è una ancora che non prende in considerazione gli edifici unifamiliari da 2 a 4 unità delle altre non voglio parlare perché c'è sì la priorità di capire come muoversi nel futuro o comunque dopo il 12 novembre però la primissima priorità delle priorità è capire cosa fare delle pratiche in corso ok la notizia buona è che con la fac di ieri diciamo che si sono resi conto del casino che è stato creato col decreto ora purtroppo anticipo che mi paiono le solite fac o cose buttate lì alla veloce che non so se le hanno effettivamente rilette e se si rendono conto se sono esaustive o meno l'idea sinceramente è no ora passo se tutto funziona direttamente qua me ne vado da una parte vi ricordo di lasciare un mi piace di condividere il video di attivare la campanellina per essere attivati e di iscrivervi al canale e vi ringrazio per il seguito ora mio sito blog l'articolo di ieri ci sono tutte le cinque fac vi ho messo una sorta di titolo per ognuna in fondo trovate queste due immagini qui mi sono rimaste devo devo togliere lo correggo dopo mi sono rimaste c'è il link alla fonte del sito dell'agenzia delle entrate qua ok ora noi lavoriamo qui sul sito mi interessa la prima perché mi avete già fatto 1600 domande oltretutto io ieri sera l'ho guardato lo esaminate l'abbiamo anche riletto mi sono confrontato anche con qualcuno ed effettivamente come dicevo e come capita sempre troppo spesso servono le fac delle fac ora vediamo se funziona sta cosa acquisisci la ingrandisco più che posso acquisisci schermata e così posso mettiamo un giallo è un po più grosso allora dicevo si sono resi conto delle pratiche in essere quindi hanno detto ok diamo un riferimento oltre il quale bisogna seguire le regole nuove del 157 prima del quale invece no bene leggiamo con riferimento ai lavori per il recupero del patrimonio edilizio di cui spero si veda il sottolineato l'articolo 16b scomma 1 lettera ab del tuir un contribuente quindi qua il contribuente che in teoria ha fatto questa domanda sta parlando del bonus casa lettera a e b ovvero dalla ordinaria in su per le parti comuni dalla straordinaria in su urbanisticamente parlando per le singole unità immobiliare le proprietà private un contribuente a seguito della ricezione della fattura da parte di un fornitore in data 11 novembre ha effettuato il pagamento rimasto a suo carico il 12 quindi proprio a cavallo tra fattura prima e pagamento post l'entrata in vigore del decreto 157 e non ha ancora trasmesso all'agenzia delle entrate la comunicazione per l'opzione dello sconto in fattura a tale fattispecie si applica il regime previgente al decreto antifraudio 157 che non richiede al fine della predetta opzione né il visto di conformità né la severazione oppure il nuovo regime previsto dal citato decreto legge che invece richiede predetti adempimenti e carico del contribuente quindi la domanda è chiara ora l'agenzia delle entrate per fortuna qui all'inizio inizia a dire l'articolo 121 comma 1 ter del decreto 34 introdotto dal decreto antifraudio 157 che prevede anche per i bonus diversi dal super bonus l'obbligo del visto di conformità e la severazione a fine dell'opzione dello sconto in fattura dell'accessione del credito quindi qui sta allargando la risposta e meno male non solo al bonus casa di cui chiede il contribuente ma a tutti gli altri bonus bonus casa ecco bonus e bonus facciate eccetera oltre diversi dal super bonus si applica in via di principio alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'agenzia delle entrate del core del 12 novembre questa era l'unica interpretazione che si poteva avere cioè se ho fatto la comunicazione prima non applico 157 se l'ho fatta dopo no ok però cosa succede che uno ha contrattualizzato fatto le cose prima e qui stanno aprendo a queste altre situazioni dicendo tuttavia si ritiene meritevole di tutela l'affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore assolto i relativi pagamenti al loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione attraverso la stipula di accordi tra cedente cessionario o per lo sconto in fattura mediante relativa annotazione anteriormente alla data di entrata in vigore del 157 2021 anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione agenzia delle entrate si ritiene pertanto che in tale ipotesi non sostituito al predetto obbligo di vista di conformità e severazione allora io questa frase l'avrò letta almeno 100 volte da ieri ok andiamo un pelo ingrandita allora riproviamoci tuttavia si ritiene meritevole di tutela ovvero pariamo la schiena a chi aveva già ricevuto la fattura da parte di un fornitore virgola assolto i relativi pagamenti al loro carico ed esercitato l'opzione della cessione o lo sconto prima domanda sono tutte e quindi la fattura il pagamento e l'opzione della cessione dello sconto già primo mezzo dubbio penso che sia fattura e pagamento non solo la fattura o il pagamento partiamo dal presupposto di avere tutti e due fatti e tracciati perché la fattura 99 su 100 elettronica c'ha una data fissa ok il pagamento idem ora ed esercitato l'opzione per la cessione attraverso la stipula di accordi traccedente cessionario o per lo sconto in fattura mediante la relativa annotazione allora per lo sconto in fattura con la relativa annotazione mi sento di interpretare che per annotazione si intende che sulla fattura quando si fa lo sconto c'è la relativa voce dello sconto ai sensi dell'articolo 121 quindi è tracciata insieme alla fattura ho messo la fattura prima dell'11 c'è lo sconto c'è l'annotazione che mi viene richiesta ok al massimo il dubbio se anche come dicevamo prima se anche il pagamento doveva essere fatto prima e qui mi sento abbastanza tranquillo su questo una fattura elettronica tracciata perché qua parliamo di date certe il concetto è capire se hanno aperto a salvare certe pratiche in corso con determinati paletti o se è un liberi tutti perché se la stipula di accordi traccedente cessionario per la cessione può essere un foglio in carta bianca in cui ho stabilito con chi mi ha fatto la fattura a ottobre che farò la cessione è chiaro che oggi tutti si metteranno a fare questi fogli bisogna vedere se nel caso di cessione ovvero nel caso in cui il serramentista fa lo sconto alla signora maria scusi non fa lo sconto ma fa la fattura normale alla signora maria la signora maria paga tutto e poi lei voleva cedere a poste alla banca eccetera bisogna vedere se basta l'accordo col serramentista ok ti pago tutto poi cedo io non credo oppure se vogliono proprio il contratto composto con la banca il che porta dei problemi a certe pratiche in essere forse al contrario però aprirebbe all'assalto alla dirigenza che tutti vanno adesso a firmare dei fogli predatati un mese fa ok quindi lato sconto in fattura o la fattura data certa elettronica ormai con l'opzione dello sconto quindi se questa è in questa fase dico anche il pagamento è stato fatto prima dell'11 direi che aspettiamo tre giorni quando aprono il portale direi che si potrà andare avanti e portare avanti queste se il pagamento è dopo non sono sicuro di questa risposta ok se invece si parla di cessione e se la fattura regime è cartaceo mi pongo il problema perché bisognerebbe che spiegassero cosa intendono perché io posso anche dire che la stipula di accordi precedente e cessionario possa essere un foglio datato non mandato da nessuna parte è meglio se è una pec però se la signora maria ha detto che io pago tutto mi faccio la detrazione ha pagato alla fattura del 2 di novembre l'ha pagata al 3 e poi voleva andarsi a cedere credito a gennaio perché aveva tempo fino a 16 marzo oppure chi è andato in questi giorni si è sentito dire tutto bloccato e non ha niente in mano per dimostrare quello qui è un nodo difficile ok altra cosa che mi state chiedendo in tanti è se ho più fatture e qui provo a ragionare se io sto facendo un eco bonus ho una fattura e l'ho pagata prima del 12 poi ho un saldo ok cosa devo fare quella prima esente quella dopo no io spero e penso di no se stiamo parlando dello stesso intervento ho dimostrato che ho iniziato prima con le regole vecchie come si è sempre fatto anche per il decreto requisiti tecnici conta l'inizio lavori prima o dopo il 6 ottobre dell'anno scorso anche per una legge 10 conta la data della richiesta del permesso di costruire per stabilire quali leggi devo seguire se quella che c'era prima o se quella che è arrivata poi dopo una certa data ok lì il problema che può nascere è sulla fantomatica definizione che ci torniamo sempre lì in tutti gli ambiti sulla definizione di intervento o medesimo intervento esattamente come quando si vogliono sommare più detrazioni sullo stesso immobile sullo stessi lavori che si stanno facendo se non mi definisci bene una sacrosanta volta cosa intendi per intervento se sto facendo il cambio caldaia ho due fatture una pagata fattura precedente l'undici saldata prima e una dopo è lo stesso intervento se sto facendo una cilla che ho le finestre pagate saldate prima e le piastrelle dei mattoni dopo l'intervento è la cilla ok tutto vecchio regime ante 157 oppure una parte sì una parte no capite che bene le FAQ ma bisognerebbe che fossero un po più chiare ok poi per quanto riguarda invece la parte della cessione come dicevo prima se si deve già avere in mano qualcosa con poste con la banca qui e là qui servirebbe un chiarimento di un chiarimento secondo me ok anche se non abbiano ancora provveduto all'invio della comunicazione dell'agenzia d'entrata si ritiene pertanto che in tale ipotesi non sussistano l'obbligo visto di conformità e asseverazione a riguardo si precisa che per consentire la trasmissione della comunicazione le relative procedure saranno aggiornate al 26 non so quanto in questo senso ci potrà aiutare la modifica del portale semplicemente non chiederà l'asseverazione e il visto se una tal cosa è stata fatta prima della tal data non so se entrerà nel merito di dirci che cos'è la stipula di accordi precedente cessionario ok chiaro che fogli volanti predatabili ad oggi dubito data certa con qualche documento ufficiale quali saranno accettati quali no in questo senso non lo so ora poi continua la fac va da sé che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l'undici relative alle detrazioni diverse al super bonus per le quale l'agenzia delle entrate ha rilasciato le regolari ricevute di accoglimento non sono soggette alla disciplina ovvero se ti dico che non è soggetto quello che che ha fatto la fattura pagato e ha all'annotazione dello sconto in fattura prima dell'undici ovviamente chi ha già la ricevuta del cassetto fiscale inviate entro l'undici è a posto nel senso che non serve sicuramente visto e asseverazione non sono soggette non sono richiesti la posizione dell'asseverazione del visto di conformità i relativi crediti possono essere accettati ed eventualmente ulteriormente ceduti senza richiedere il visto di conformità all'asseverazione della congruità quindi ovviamente i crediti che avete già sul cassetto arrivati e maturati o con comunicazione fatta prima dell'undici cioè se un seramentista un idraulico ha questi crediti sul cassetto dal 26 potrà accederli senza che un ente debba richiedergli visto e asseverazione fatto salvo che potranno esserci controlli dell'articolo 122 bis che è stato aggiunto sempre dal decreto antifrodi quello che possono fermare il credito 5 giorni poi 30 se trovano della difformità in base degli indici che stanno creando l'agenzia delle entrate quindi le notizie sono direi anche in parte positive però la situazione proprio chiara ovviamente non lo è ora avevo degli appunti qui da una parte che voi non vedete ma facevo delle ipotesi allora queste ipotesi di essere in buona fede mi metto tanto in primo piano e vi ricordo di lasciare un mi piace se vi va di iscrivere al canale seguirmi anche sugli altri social facebook linkedin instagram allora le condizioni per i quali il contribuente viene considerato diciamo così in buona fede dall'agenzia delle entrate è quella di aver ricevuto la fattura da parte del fornitore probabilmente di averla pagata prima non credo che sia o no ma credo che siano tutti e in questa frase e di aver stipulato un contratto per l'accessione con la banca o con la posta o l'annotazione della fattura dello sconto prima del 12 quindi tutti coloro che non hanno un contratto e che non hanno ricevuto nella fattura nel pagamento direi che si cuccano l'antifrode dubbi tutte le fatture devono essere state assolte prima dell'11 o come dicevamo prima se ne ho fatto una parte prima e una parte dopo cosa conta l'intervento l'inizio dell'intervento o basta appunto che ne ho pagato la prima e qui ripeto adesso guardo se avete chiesto qualcosa non so cosa dire più di così in questa fase sulle altre FAQ ora non mi non le voglio esaminare anche perché ho del resto da fare volevo già farlo ieri sera ma ero troppo bollito preferito dormirci sopra e le altre FAQ parlano della severazione dei preziari eccetera non entrano nel dettaglio nei discorsi che abbiamo già fatto sull'allegato i non allegato i per gli ecobono semplificati non nominano il day quando chiamano altri preziari quindi diciamo che abbiamo messo dei nuovi mattoncini che qualcuno forse da tra tre giorni potrà portare avanti qualcosa qualcun altro ancora dei dubbi sulle pratiche in essere non lo chiamerei un colpo di spugna che salva tutte le pratiche effettivamente in essere chiaro è che se dicessero preventivo accordo prima dell'11 senza nient'altro magicamente tutti avranno un foglio che dice ho fatto l'accordo a ottobre o il 2 di novembre capisco anche che forse non possono aprire troppo vediamo spero che non pensino di aver sistemato tutto con queste FAQ ok ora vi saluto non vi ricordo neanche più di scrivervi eccetera se volete condividere il video vi ringrazio saluto Carlo Pagliai che mi sono dimenticato di chiederglielo prima poi lascerò in descrizione anche i due video che ha fatto lui sulle FAQ ieri così potete avere anche dei punti di vista differenti se poi lui vorrà mettere questo in descrizione al suo anche l'altro ne sono lieto nella pagina del sito come vi ho detto che ve la faccio rivedere trovate anche il video di ieri oltre che sul canale qui c'è il link alla playlist di tutti i video da quando è uscito il 157 e adesso appena chiudo vado a togliere queste due immagini che mi sono rimaste che non c'entrano nulla torno qui vi saluto e vi ringrazio alla prossima ciao